Leandro Fernandez, intanto benvenuto a Pescara, come ti sei trovato subito in questa nuova squadra, in questa nuova città? Grazie mille, mi sono trovato molto bene, sono molto contento di essere qua, ringrazio tutti i miei amici della squadra. Ecco, sei arrivato, è subito in campo, com'è stata questa prima avventura, questa prima partita contro il Notaresco in Coppa Italia? Avete sofferto, c'è da affinare ancora un po' le cose con tutti i ragazzi della squadra? Sì, sì, certo, perché ero arrivato per due o tre giorni, era tutto nuovo per me, però si vede già in allenamenti chi va molto meglio, i ragazzi mi aiutano, siamo una squadra forte, pure dentro e fuori campo. Il mister è molto bravo, aiuta la squadra sempre, quindi ho tutta la fiducia che tutto andrà molto meglio. Ecco, hai giocato in un centrocampo a tre da play, è il tuo ruolo naturale? Ti trovi meglio a giocare così o un centrocampo a due? Come ti senti meglio in mezzo al campo? Dove il mister vuole chi gioco, perché io penso che io gioco per la squadra, dobbiamo lottare tutti insieme, quindi non importa dove gioco, dove gioco devo fare il meglio per la squadra, come il mister vuole. Più vicino o più lontano alla porta? Più vicino alla porta. Ti piace più vicino alla porta? Sì, sì, certo. Ecco, vieni da un'avventura con una squadra come la Juventus, che cosa ti ha insegnato quell'avventura? Molto, perché sono stato lì da 2018, ho imparato tante cose lì, quindi devo dire grazie a tutti alla Juve, perché mi hanno aiutato un sacco. Quando sono arrivato come un ragazzino da Olanda a Torino. Adesso sono qua, sono molto felice e questa è un'avventura per me che può essere molto, molto, molto bene per me. Ecco, abbiamo visto, se non andiamo errati, una foto prima di arrivare a Pescara insieme a Del Sole, un tuo amico della Juventus. Che cosa ti ha detto quando è venuto qui? Ha detto che mi trovo, che mi troverò, troverò molto bene qua a Pescara e ha detto che è top qua, quindi sì, sono felice.